Numero 5. Se sei un appassionato di cucina e vuoi dare una nuova dimensione ai tuoi dolci e piatti, il set di coppapasta Stonelin è ciò di cui hai bisogno. Con i suoi 6 stampi dalla forma tonda e le dimensioni di diametro 8x5 cm, puoi creare chicche deliziose e perfette per qualsiasi occasione. Ma non è tutto, grazie al sollevatore incluso, potrai posizionare i tuoi capolavori sul piatto con estrema facilità. Inoltre, questi stampi sono resistenti fino a 200 gradi centigradi, perfetti per un uso sicuro anche in forno. Trovi il link di questo articolo in descrizione. Numero 4. Il coppapasta tondo di guardini è uno strumento essenziale per ogni appassionato di dolci fatti in casa. Il set include uno stampo con forma tonda e pareti alte, ideale per realizzare torte e biscotti perfettamente rotondi. Ma la vera sorpresa è lo stantuffo incluso, che facilita la rimozione dei dolci dallo stampo senza rovinarli. Le dimensioni di diametro 7x6 cm rendono questo coppapasta versatile e perfetto per creare delizie di ogni dimensione. Un prodotto di qualità che non può mancare nella cucina di ogni pasticcere amatoriale. Se ti interessa questo prodotto o vuoi sapere il suo prezzo, clicca il link in descrizione. Numero 3. Tescoma Chef Coppapasta è una vera e propria soluzione tutto in uno per chi ama sperimentare in cucina. Con quattro diversi stampi dalle forme tonda, quadrata e triangolare, è possibile creare spaghetti, fusilli, lasagne e molto altro ancora. La sua versatilità non si limita solo a tagliare la pasta fresca ma è anche utilizzabile in forno, per creare gustose torte e quiche. Con ben sei stampi inclusi nella confezione e la possibilità di regolare le dimensioni in base alle proprie esigenze, è l'alleato perfetto per ogni chef creativo. In descrizione trovi il link di questo prodotto. Numero 2. Q-Off Coppapasta è una scelta ideale per chi ama dare un tocco di originalità ai propri dolci. Con sei diversi stampi disponibili, potrai creare forme tonda, quadrata e a cuore, dando vita a prelibatezze adatte ad ogni occasione. Gli stampi sono facili da usare e garantiscono una forma perfetta grazie all'utilizzo dello stantuffo. Le dimensioni di 8x4 cm sono perfette per ottenere dolcetti dalle dimensioni ideali. Inoltre, grazie alla sua semplicità di utilizzo, anche i più piccoli potranno divertirsi a creare deliziosi dolcetti con questo set di stampi. Una scelta perfetta per chi vuole unire creatività e praticità in cucina. Se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto, clicca il link in descrizione. Numero 1. Beluxin Set di 6 Coppapasta è l'accessorio perfetto per chi ama cucinare e vuole dare una svolta creativa alle proprie preparazioni. Ogni stampo è dotato di stantuffo, che permette di rimuovere facilmente l'alimento senza rovinare la forma. Con le sue doppie forme tonda e quadrata, si possono ottenere diverse preparazioni, dal dolce al salato, come biscotti, torte o sformati. Realizzati con materiali di alta qualità, i 6 stampi hanno anche dimensioni comode. Il prezzo di questo articolo è consultabile attraverso il link in descrizione. Grazie. Grazie a tutti.